Non mi perdevamo, però questo è stato un percorso, un percorso anticipato rispetto a quello che ci avevamo detto due anni fa con la società, però è chiaro che dopo 14 anni mi sono qua proprio lo stesso palazzetto a festeggiare uno scudetto, ma non lo dite a nessuno, perché se no non mi prende più nessuno la settimana prossima cosa, che ci vieto così tanto. Allora si chiude in una maniera più bella un percorso, un cammino di sette anni. È chiaro che la vittoria colora tutto in modo diverso, ma tra me e questi ragazzi no. Glielo ho detto prima, nel percorso che avevano fatto, questi giorni abbiamo parlato parecchio. Posso parlare? Abbiamo parlato parecchio perché ci avevamo detto che avevamo pochi attributi, soprattutto chiesto scusa loro perché i loro pochi attributi è perché erano allenati da un allenatore e poco attributi. Gli ho detto ma questa cosa che ci dicono è un valore perché l'uomo è limitato, non ci sarebbe il progresso. Gora 5 che è un'esperienza oltre al limite esiste per le persone limitate perché per gli zorro è una passeggiata. Dopodiché abbiamo percorso tutta la storia del mago di Oz e alla fine gli ho detto io non sono né Oz né un mago ma sono un bello coach e loro avevano tutti. Mi mancava un francobolo in una lettera che hanno avuto a Roma e il francobolo era il mio grazie. Grazie.